21 marzo 2014 ritroveremo il piano nobile di Palazzo Bonaccorsi con questa straordinaria Sala delle Neide. È una tappa di un viaggio iniziato nel 2009 a dicembre, l'8 dicembre del 2009 con la riapertura del Museo della Carrozza e terminerà a dicembre del 2014 con la riapertura delle sale del secondo piano dedicate all'arte contemporanea. Un viaggio straordinario che ci riporterà a casa, riporterà a casa tutti i maceratesi ma soprattutto accoglierà a braccia aperte tutti coloro che vorranno venire e ritrovare il mondo in questo luogo. Grazie 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 Grazie